Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Tassim-sè, bene sto credo questo nuovo personaggio perché vabbè c'è l'espansione dell'asilo, non abbiamo capito l'espansione, vabbè questo sim lo sarò sia per far sposare un'assimina, sia per il dirigente dell'asilo tipo ok, allora lui si chiama Michael Tyler, aggiungiamo, speriamo, ok andiamo, ok spero di aver fatto tutto ok, questo qua certo non è l'asilo, tu te ne vai, non te ne vai mai, vabbè vai qua, perché è tanto bello quel posto allora, credo vi taglierò questa parte perché è molto noiosa, beh ci vediamo ok, mi è venuto fuori questa scemenza, allora, fuori mi piace tanto, è molto bello e poi dentro c'è un bel casino, non ho finito perché non c'avevo più soldi allora, siamo all'entrata con una sala d'attesa, così a caso poi qua è l'angolo dove è stato i nostri cari pepe forse ha fatto un po' stretto, ha fatto un po' stretto vabbè, qua c'è il bagno della femmina e qua il bagno dei maschi e qua c'è la sala dove tipo si incontrano per parlare di tante belle scemenze oh, tu non hai un posto da far pipì, non nemmeno dove mangiare è bellissimo, te è allora, tu devi fare tipo subito amicizia con questa qua così li trasferisce e poi facciamo un altro sim grazie, mi ha compiegato comunque grazie ok, qua lo conosco sicuro ok, noi andiamo dagli altri intanto sto pensando di riparare la stalla questa qua non mi dà un nome, come si chiama? vabbè si chiama in un modo perché quest'altro hobby non mi piace proprio questo non ha senso preferisco di più questo quindi ora mi sto facendo lavorare come se non ci fosse un domani non c'è di lavorare schiavi ah 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 oh, sta piovendo ciao amicia ciao fuori ah, il nostro Geraldo se la coda adesso se la coda se la coda un sacco con un bagno bello caldo mentre pio la sua casa è deforme ma non se ne frega un figo secco anche lui ha i big money almeno lui anche ora basta accarezzarla ce l'abbiamo cambiato e ne ha un po' metto così un po' tutto a caso così e poi se si fa senza scarto ti metti la scarto ok vai ora cosa vorresti fare tu? vende al lavoro e vada vai così ci dai big money e facciamo il bellissimo silo per queste stelle proprio ci siamo capiti che ne dite vi piace la silo ditelo nei commenti come vi dico sempre se tipo chiude la registrazione prima e non vi ho salutato fate vede che vi ho salutato perché mi è sparito perché dice hai finito lo spazio va al diavolo ecco cosa mi dice mi dice proprio questo no no scusate no no vabbè lei non ha mangiato ah non l'hai mangiato l'ho mangiato ok senti pulisci un po' pulisci salva pulisci perché loro devo provare a fare una cosa vai finalmente un giorno senza loro sì se la coda oh guarda lui se tu ti aspetti il partner ti balla poi arriva tua moglie ah ok non lo sapevo la prossima volta faccio fare un posto romantico non è normale che ballate mentre lei sono ballate senza non ha senso allora dimmi che fai qualcosa di bello perché voi fate sempre cose inutili lo sapete perché sto facendo questo ve lo spiego in un semplice modo se completi tutto questo ti danno questi capelli ecco capito e mancano sei giorni se questi qua non mi aspetta no non si vedrà la cucina mi interessa cosa che cucina allora la stilista ho fatto tutto tranne questi tre e se io perdo per questi tre li ammazzano veramente di trasferirlo alla città l'avevi capito? hai capito? ora continua a lavorare serva per sempre ah 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 quanto sono cattiva sono cattivissima pulisce allora cucciolino della mamma cosa vuoi fare cucciolino della mamma vuoi giocare? e guarda qua guardiamo guardiamo cosa cucina allora ora cuciniamo una bella frittella con il sale perché il sale ci deve stare sempre di più perché il sale è buono e poi mettiamo la frittella nel forno perché così poi viene più più calda poi accendiamo i cradini a questo conto e poi li mettiamo nel microonde così viene calzissima no no non c'è non c'è non c'è e poi ricomincia la capo ok allora mmm ah perché non è pulito io ce l'avevo detto di pulire stupida ma deve pulire tuo marito no sta scassando mi è simpaticissima però c'è questo cattino che mi senti triste no no è triste allora stiamo andando al lavoro al lavoro via tu chiedi andando al lavoro quindi ora tocca a te badare a tua figlia magari eh che dici tu puoi andare al lavoro bello che ha no tu questo qua Gidio come on non sto facendo niente no no andando al lavoro per pure pianta peperoni perché non so che farti fare pelagio slips tonight ok allora ecco i due 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 i miei i due i due i due i due i due c'è uno è nato un qualche giorno dopo vabbè antonio è nato qualche giorno dopo diciamo che sono gemelli no dai se no poi devo far crescere contropodendamente e pollice verde i tuoi peperoni sono cresciuti ora li puoi raccogliere tanto aspetta se pianto no perché sono no se io tipo faccio piantare tante cose mi danno i soldi anche se con i peperoni pochissimi però mi danno i soldi quindi tu ora piantere te le zucchine no 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 pianta un'altra volta questi perché ho deciso così e poi ti faccio aprire una cosa che dura meno di un giorno dura sempre tanto ok cosa voglio fare ma vedo far vedere una cosa bellissima troppo bella a fare vi aspetta la 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 è purtroppo bella sta cosa si su vai qua vai dove vuoi no non ti devi tu rilassare quanto sei scemo tu vatti a sedere e tu rilassare ma dove stai dove sei stato no ma cosa fai guarda guarda ma che carino ciao ti stai divertendo eh amanda lo sai che fai un po' dell'asilo l'asilo è molto bello si diversi tanto e Antonio lo sai anche tu che fai un po' dell'asilo e si potrei fare così potrei stare sull'asciugamano morbido morbido lo sai perché li metterò si credo di si ok ragazzi direi che per questo episodio è tutto e ciao ciao ciao